Musica Sono più veloce io correndo all'indietro di Bonera rispetto a Bonera correndo in avanti Ma perché urla scusate? E' uno che corre in indietro e l'altro che corre in avanti si scontra Corri in clinica Questa qui è una gara che dopo farò Facci vedere come corri in indietro Vi trovo anche la troupe di Telenova Perché il giorno faremo questa gara Oggi Fammi vedere come lo fai Preparati Allora Enrico Eccolo Attenzione Sono dieci anni Questo finisce su Youtube Sulla BBC Da per tutto Attenzione popolo Se cadi io me ne vado a casa Manca Bonera però Eccolo Attenzione Parti Vai Ma Bonera è più veloce Se corri così Erivi dopo No no Ti sei stirato No Ti sei stirato Chiaramente adesso stavo andando al 3% Perché poi No 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 Non sto scherzando E' stata una scena in guarda Comunque sembrava un po' E' stato peggio live Ve lo dico Esteticamente era una cosa No proprio E questo è una sua scena in guarda In guarda Lo dico Especialmente Allora